Quando Beppe Grillo arriva a Roma è sempre una festa. Avete anche cantato? Sono sette anni che il movimento esiste. Grazie! 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 Senatore si sentiva cantare. Avete festeggiato? Si sentiva cantare. Evidentemente. Io non canto solitamente. Però era l'occasione giusta. Un compleanno è sempre un compleanno. C'erano delle torte che avevamo festeggiato. Ma va, in un compleanno delle torte. Hai visto che siamo rivoluzionari. L'importante è che sono arrivati in faccia le torte. No. Secondo me ha lanciato un sondaggio. Secondo me c'erano anche le candeline. Ah... ья.. Poi... Si via...